Vieni, Flop! Arrivo, Bing! Coco! Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Bing! Ciao, Tanto! Ciao, Tanto! Ciao, Bing! Ciao, Sula! Qualcuno lo di fretta! Stai bene, Bing? Sì! Va bene! Nostalgia di Flop! Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, Bing delle carote oggi mangerà! Io vedo con i miei occhietti qualcosa di... Rosa! Oh, un libro! No! Un fiore? No! Ho capito! Il tuo vestito! Sì! Sì! Tocca a me! Io vedo con i miei occhietti qualcosa colorato di... Arancione! La lampada! No, no! Dunque qualcosa di arancione! È la carota! Sula, ma che dici? Non vedo nessuna carota! Oh, io adoro le carote! Anche io! Voglio mangiare delle carote! Flop! Sì! Possiamo avere delle carote per pranzo? Ma certo! Oh, non ci sono carote! Ma io voglio le carote con le ciambelle, Flop! Non preoccuparti! Non è grave! Vado al negozio di Paget a comprarle! Andiamo al negozio di Paget! Tu rimani qui, Bing! Ok, io rimango qui con Sula, Flop! Oh, sì! Dai, giochiamo! Giochiamo! Va bene! Amma si prenderà cura di voi! Con molto piacere! Tornerò presto! Ciao ciao, allora! Ciao, Flop! Ciao, Flop! Ora tocca a me, Bing! Io vedo con... Devi ancora trovare la cosa arancione! Oh, ehm... Ok! Vuoi che ti dica cos'è, Sula? Ok! Sono le farfalle sul tuo vestito! Quelle lì! Oh, le farfalle! Ora tocca a me! Io vedo con i miei occhietti qualcosa colorato di... Celeste! Il cuscino sotto di te! Oh, non è giusto, Bing! Sei stato troppo veloce! Io vedo... Ma Sula, ora tocca a me! Regno, tu ne hai durato poco, Bing! Ma non puoi vedere tu due volte di seguito! Flop! Flop! È andato a comprare le carote! Ma torna subito! Amma, questa volta a chi tocca a guardare? Sai una cosa? Penso che ora tocchi a me! Sì! Speravo che mi chiedeste di giocare! Tocchi ad Amma! Fatemi pensare! Io vedo con i miei occhietti qualcosa colorato di... Arancione! La sedia? La ciambella! No! Provate ancora! Oh, è Flop! Dove è Flop? Sula parla di Flop nella foto! Ma no! Oh! L'ananasca la mita! Molto bene, Sula! Flop non torna più! Oh! Sta scegliendo per te le carote più belle nel negozio di Paget, lo sai! E sarò a casa presto! Ma certamente! Adesso finiamo di apparecchiare questo tavolo! Va bene! Sì! Io mi siedo qui! Sì! È il tuo posto! Dov'è la mia tazza a pinguino? E i miei piatti opiti vush? Io uso sempre quelli! Oh, mi dispiace, Bing! Non sapevo che volevi proprio quelli! Flop lo sa! Va bene, certo che lui lo sa! Dai, cerchiamo Flop! Sì! Forse è già fuori dalla porta! Possiamo spiarlo da qui! Attento, Bing! Oh, tesoro! Mi fa male! Povero Bing! Oh, Bing! Il tuo povero di Tino soffre veramente tanto! Vieni qui! Ti serve un abbraccio di Amma! Io voglio un abbraccio di Flop! Oh, lo so bene, Bing! Che ne dici di chiamare Flop? E di dirgli che ti sei fatto la bua? Sì! Intanto io vado a cercare apiti vush! Ciao! Sono Flop! Non posso rispondere, ma presto lo farò! Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico! Flop! Sono Bing! Mi sono fatto male a un dito! Dove sei, Flop? Ma insomma, dove è finito? Ho trovato il telefono di Flop! Faceva... Ecco perché non rispondeva! Perché ha lasciato il telefono qui! Oh, ma mi manca tanto Flop! Oh, Bing! Flop è andato al negozio e ci porterà tante, tante buonissime carotine! Sì! Buonissime e croccantissime, Bing! Pensi che il sacchetto di Flop sia già pieno? Forse... Possiamo giocare al negozio di carote! Va bene! Posso essere io, Puget? Buona idea, Sula! E, Bing, tu potresti fare Flop al negozio di Puget! Flop da Puget! Flop al negozio di Puget! Ok! Ciao, Flop! Vuoi delle carote? Sì, per favore, Puget! Molte carote! Ecco qui! Ne metto ancora due! Quanto costano tutte queste carote? Oh! 25 saldi, per favore! Grazie, Puget! Ecco qui! Ciao! Arrivederci, Puget! Ci vediamo presto, Flop! Arrivederci! Flop! Flop! Ciao, Flop! Ciao! Oh, che benvenuti! Mi sei mancato! Mi sono fatto molto male al dito! E volevo solo che tu tornassi a casa! E l'ho fatto! E... Ecco le tue carote! Oh! Carote! Veramente deliziose! Ciao! Volevo delle carote per pranzo! E così Flop è andato a comprarne un po' E io sono restato a giocare con Sula! Poi, la bocca delle lettere ha fatto malissimo al mio dito! Ai! E purtroppo Flop non era lì a consolarmi! Ero così triste senza di lui! Ma poi abbiamo giocato a fare la spesa! E ci siamo divertiti molto! E poi, sapete una cosa? Flop è tornato! Come aveva detto! Nostalgia di Flop! È una cosa da Bing! Io adoro Flop! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.